Darei la parola al Sindaco Giorgio Gori. Grazie, anch'io voglio ricambiare i saluti e la gratitudine nei confronti del Ministro che ci ha onorato della sua partecipazione. Abbiamo sentito la sua vicinanza in questi mesi e mi piacerebbe appunto che questa relazione che si è costruita possa continuare anche in futuro. Continuo con i ringraziamenti per tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile questa nuova edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale. Innanzitutto voglio ringraziare la dirigente scolastica provinciale, quindi la dottoressa Graziani, che ha fatto uno straordinario lavoro in questi mesi. Lo ha già detto il Ministro, più autorevolmente di me, ma lasciatemi testimoniare da vicino quanto lavoro si sia fatto a Bergamo perché la scuola potesse continuare a funzionare il meglio possibile. Ringrazio ovviamente Loredana Poli, mia assessora dedicata e appassionata al tema scolastico e Dianora Bardi con tutta l'associazione Impara Digitale che ha aperto la strada ad un tema che oggi è di globale centralità, ne parliamo in tanti, se ne parla spesso, ma qualche anno fa non era così e c'era bisogno di qualcuno che appunto rompesse un po' il ghiaccio. Questa edizione si svolge, come vedete, in forma totalmente digitale, ma noi siamo in un luogo per me particolarmente caro. In questo Salone Furietti ho preparato il mio esame di maturità e tante interrogazioni del liceo. L'abbiamo restaurato qualche anno fa, è tornato nel suo splendore, oggi è libero dai tavoli che normalmente lo occupano e dove le persone vengono a studiare, ma speriamo di riaprire presto anche le biblioteche. Un saluto ai tantissimi iscritti di questa edizione, che spero appunto particolarmente ricca di contenuti, di spunti, di momenti di riflessione. Di scuola digitale a Bergamo, da Bergamo, si parla ormai da alcuni anni e non ci saremmo mai immaginati che il 2020 potesse diventare un anno di pratica così estesa di scuola digitale, di didattica digitale. Ci è cascato un po' addosso questa cosa e probabilmente la scuola italiana non era preparata e con grande sforzo, ma credo anche con apprezzabili risultati, migliaia e migliaia di insegnanti si sono attrezzati a continuare a svolgere il loro lavoro con strumenti che non avevano minimamente frequentato in precedenza. Questo ha certamente comportato un'accelerazione di pratiche che avremmo avuto bisogno di molti anni per percorrere in altro caso, ma non è detto che questo abbia anche comportato effettivamente un cambiamento profondo dal punto di vista proprio della didattica. L'impressione anzi è che ci si sia resi più abili nell'uso degli strumenti, della tecnologia. Forse oggi le connessioni sono un pochino più facili, non per tutti purtroppo, sappiamo. Magari i computer si impalano un po' di meno, ma non è detto che ci sia stato il tempo e la possibilità anche di capire come la didattica a distanza richiede anche un cambiamento profondo della didattica, appunto, della metodologia, della pedagogia. Non è soltanto questione di riproporre le lezioni frontali di fronte allo schermo di un personal computer. Questo è il tema della riflessione che oggi secondo me noi dobbiamo affrontare. Cioè siamo in presenza di una maggiore, straordinariamente maggiore diffusione dei mezzi che consentono la didattica digitale, ma non abbiamo, secondo me, fatto altrettanta strada dal punto di vista dell'approfondimento invece delle metodologie. E questo punto è quello che in particolare impara digitale da anni cerca di far passare. cioè non si tratti appunto soltanto di usare pc, tablet e altri strumenti, ma proprio di ripensare in profondità la didattica tenendo conto delle diverse connessioni, anche mentali, che il digitale ci abitua a fare. Ma teniamo per buono quello che è successo. In particolare anche quel cambiamento di relazioni che inevitabilmente è avvenuto tra persone che non si trovano più per un certo numero di ore, sempre lo stesso, negli stessi luoghi, ma si sono abituati a comunicare con altri strumenti, con le chat, che ovviamente non conoscono gli orari esattamente come invece i calendari scolastici. E quindi capita che ci si parli tra professori e studenti anche in orari poco convenzionali e difficilmente io credo si potrà tornare indietro. E questo io credo che sia un fatto positivo di cui dobbiamo fare tesoro. L'altra cosa che mi preme dire è che non soltanto la didattica digitale, la scuola digitale è diventata centrale in questi mesi, necessari addirittura, ma è diventata la scuola in generale. E questa è una grande occasione che non possiamo perdere. Di scuola si è parlato troppo poco negli anni nel nostro Paese, la scuola, come diceva il Ministro, è stata finanziata troppo poco in questi anni e il risultato è che si sono se diventate una serie di problemi molto evidenti che poi hanno ricadute su tanti aspetti della vita del Paese. Se il nostro Paese, per esempio, sconta una dinamica demografica particolarmente preoccupante, con una natalità molto ridotta, con una bassa partecipazione delle donne al mondo del lavoro, questo credo sia anche e soprattutto perché gli strumenti che la scuola avrebbe potuto mettere a disposizione di quelle donne per conciliare più facilmente la loro dimensione professionale con la vita familiare, sono indietro rispetto a dove dovrebbero essere. O comunque sono distribuiti in modo molto diseguale nel nostro Paese. Il tema delle diseguaglianze si è affacciato in questi anni prepotentemente anche al dibattito politico e certamente quello tra Nord e Sud è una diseguaglianza molto forte, un divario molto forte che proprio intorno alla scuola trova, secondo me, la sua espressione più evidente. La dotazione di asili nido tra le regioni del Nord e quelle del Sud è molto diversa, la dotazione di servizi di tempo pieno è molto diversa tra Nord e Sud, ma questa differenza non è soltanto tra Nord e Sud, è anche tra centro e periferie, tra metropoli e aree interne, spesso all'interno della stessa città, tra diversi istituti scolastici si riscontrano dei forti divari. Allora io credo che questo tema debba essere preso nel suo insieme, affrontato, con l'obiettivo appunto, intanto di portare la scuola a servizio di un grande disegno di maggiore equità sociale, di riavvicinamento tra pezzi di paese che oggi tendono a divaricarsi, di sostegno all'impresa necessaria all'Italia di consentire una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e con questo un aumento della produttività. Contemporaneamente dobbiamo preoccuparci di far sì che la scuola sia oltre che lo strumento di una maggiore eguaglianza sociale anche lo strumento di creazione delle competenze necessarie perché il nostro paese sia più competitivo, perché le nostre imprese siano competitive. Ormai la competizione internazionale si gioca con evidenza sulla frontiera dell'innovazione e l'innovazione richiede una dotazione, una qualità di capitale umano che non sempre il nostro paese è stato in grado di produrre in questi anni. Allora l'investimento sulla qualità del sapere e quindi anche sulla qualità degli insegnanti perché le cose evidentemente stanno insieme è un altro obiettivo da perseguire con grande determinazione. Abbiamo necessità di riportare all'attenzione delle famiglie e dei giovani, l'istruzione tecnica per le potenzialità, il valore che vi risiedono. C'è stata negli anni una progressiva presa di distanza dalla formazione tecnica e professionale come se si trattasse di una formazione di seconda scelta, di serie B. Il risultato è una forte mancanza di professionalità di quel tipo. Le giovani, le studentesse spesso si sono tenuti distanti dalle materie scientifiche, dalle materie economiche, dalle materie matematiche, dalla scienza in generale e questo credo sia tra le ragioni della maggiore difficoltà che spesso le studentesse e le giovani hanno poi nel poter perseguire degli obiettivi professionali e di carriera in linea con i loro sogni. Abbiamo bisogno di una struttura competitiva dal punto di vista, ripeto, dell'istruzione tecnica che ci avvicina a quanto altri paesi europei hanno conseguito in questi anni. si è lavorato in questi anni e Bergamo di nuovo è capitale anche su questo, sull'istruzione tecnica superiore, ma l'investimento che complessivamente il nostro paese dedica al potenziamento di questo segmento post diploma dell'istruzione è assolutamente insufficiente se vogliamo cercare di moltiplicare le potenzialità formative in quei campi. Io credo che ci siano quindi molte partite da giocare con una convinzione e dobbiamo sperare che quello che è accaduto quest'anno, cioè il fatto di esserci ritrovati a dover porre in sicurezza la scuola con gli strumenti appunto del digitale laddove siamo riusciti a farlo, sia anche lo spunto invece per una riflessione più estesa sul sistema scolastico. Mi pare che la politica di questo dia qualche segno, questa è la speranza, perché da lì io credo che partano molte delle scommesse di rilancio complessivo del nostro paese. Ed è evidente che la tecnologia, il digitale attraversa tutto questo percorso, lo fa anche relativamente alle persone più adulte. Quando parliamo di scuola siamo abituati, io perlomeno tendo a pensare ai giovani, perché è negli anni appunto, nei primi anni di vita, nei primi decenni di vita che si è fortemente concentrati sulla propria istruzione, sulla costruzione del proprio sapere. Ma è una visione abbastanza datata, guardate, perché è sempre più chiaro che invece la velocità con cui il mondo cammina, con cui il sapere evolve, con cui la tecnologia cambia la nostra vita richiede un adattamento costante da parte di ognuno di noi. E quindi non esiste più la possibilità di dire prima ho imparato, adesso lavoro, tra poco vado in pensione. Questa scansione della vita a partire ad un'altra epoca, ad un altro secolo. E in effetti il fatto che però di questo tipo di scansione si continui a parlare spiega anche il fatto che il nostro paese relativamente all'istruzione delle persone adulte abbia sconti una distanza spesso da dove si collocano in altri paesi. Quindi io credo che l'investimento vada fatto sì sulla scuola dei giovani, per i giovani, ma nello stesso modo sull'istruzione invece permanente, su quella che accompagna le persone lungo tutta la loro vita, sull'istruzione professionale che anche richiede di essere costantemente aggiornata. E di nuovo io penso che il digitale sia uno strumento che viene al nostro soccorso, che ci può facilitare questo compito, che può accelerare dei processi rispetto a obiettivi su cui in questo momento scontiamo un ritardo. Quindi tutto questo per dirvi quanto i temi che questa manifestazione ogni anno pone alla vostra attenzione attraverso il contributo di esperti e persone di grande qualità sia oggi centrale, sia strategico per il vostro lavoro, per la vostra vita, ma anche per il futuro del nostro paese. Noi continueremo da Bergamo a cercare negli anni prossimi di coltivare la conoscenza e la condivisione del sapere su questo tema, sperando di essere d'aiuto, ripeto, ad una estesa comunità che è quella della scuola, alla quale di nuovo va il mio saluto e il mio ringraziamento. Grazie Signora. che si farà durante questa giornata e avremo tre panel principali che cominceranno tra poco. Nel primo il tema affrontato, il titolo che abbiamo voluto dare a questa prima sessione è Next Generation Italia, come traghettare la scuola fuori dalla crisi per preparare l'Italia di domani. Qui verranno ripresi molti dei temi di cui ci ha appena parlato rapidamente il nostro sindaco. La seconda sessione, che sarà alle undici e mezza, avrà come titolo Il trauma e la cura. Ruolo e ruoli nella didattica e nel processo formativo dei nostri giovani. Cosa cambia nella crisi e dopo la crisi? Questo è il secondo tipo di approfondimento. Come capite, stiamo affrontando i temi da punti di vista differenti che ci possano consentire al termine della giornata di trarre alcune linee di lavoro che riteniamo preziose. Il terzo panel, che sarà nel primo pomeriggio, avrà come titolo Strutture e infrastrutture per la scuola, strutture materiali, strutture immateriali. Che cosa è cambiato e che cosa deve cambiare? Dopo questi approfondimenti avremo il pomeriggio di lavoro con tavoli paralleli a cui vi siete iscritti e ricordatevi anzi di continuare a mandarci i vostri contributi sulla chat della piattaforma. Vedo che ne stanno arrivando. Ci saranno dunque i tavoli paralleli e in particolare vi segnalo una sessione organizzata da Anci Lombardia che oggi andrà ad approfondire il tema dell'autonomia scolastica. Quest'anno sono 20 anni dalla norma sull'autonomia scolastica quindi sarà una sede per ragionare su alcuni degli spunti che ci ha dato l'amministrazzolina. Cioè il Ministero, anche nel lavoro di quest'estate, ha messo a disposizione molto per le scuole ma è stato accompagnato da un lavoro prezioso, minuzioso, tempestivo di tutte le amministrazioni comunali che hanno dovuto lavorare sugli edifici o per supportare le scuole anche a colmare le lacune di dispositivi per esempio è l'altro elemento che ha citato la Ministra. Bene, questa interazione quest'anno è stata decisamente produttiva, c'è stato lo sforzo di tutti per convergere verso quell'obiettivo importante che era riaprire le scuole in sicurezza. Ma non sempre va così, non sempre è andato così in questi 20 anni. Di questo parleremo oggi pomeriggio nel webinar di Anci che concluderà la giornata. Ora vi lascio per qualche minuto il tempo di prepararci. Il primo panel, quello che vi ho annunciato dal titolo Next Generation Italia che vedrà Marco Bentivogli, Tito Boeri, Giorgio Gori, Pietro Guindani, Stefano Quintarelli dialogare con l'aiuto di Francesco Sacco comincerà tra qualche minuto precisamente alle 10.10. Ci vediamo tra poco, grazie.